La cacciata dello Shah e la nascita della teocrazia in Iran ha cambiato drasticamente in maniera speriamo non irreversibile lo scacchiere medio orientale. L'Italia è il primo partner economico europeo dell'Iran, acquista gas e prodotti petroliferi e quello che sta capitando nella regione non può non interrogarla anche perché l'Italia ha sempre avuto un ruolo nelle relazioni internazionali per la sua struttura di cuscinetto attraverso la farnesina fra l'Iran e gli Stati Uniti. Soffiano venti di guerra, l'Italia è un po' troppo distratta, sarebbe bene che si ricordasse della sua storia in quell'area e del suo ruolo in Europa e nel mondo. Finalmente la piccola figura di Khomeini appare.